ultimamente stanno aumentando di smisura i post degli juventini arrabbiati molto arrabbiati contro la fgc contro la uefa contro ceferin contro le istituzioni contro le associazioni arbitri e denoto anche un pessimismo definirlo cosmico sarebbe una barzelletta nei confronti delle possibilità che la juventus ha o avrà o avrebbe di qualificarsi e per l'europa league e per la champions league e per qui e per là e per su e per giù io dico una cosa io dico una cosa quando mio padre grande pescatore vinceva il campionato italiano bancari che lui ha lavorato in banca per una vita voi fate conto che su 30 campionati ne vinti 27 più o meno 26 avrà persi tra quattro non di più adesso non ricordo esattamente quanto ma so che lui praticamente ogni anno iniziava il campionato italiano bancari scusate il campionato sociale e lo vinceva poi ha fatto il campionato italiano bancari e ha vinto quattro cinque volte ok campionato italiano bancari siccome lo vinceva una volta lui non vinceva una volta un'altra non succedeva niente il campionato invece quello della del crowd commit dove lavorava lui dicevano che aveva fortuna che era li tiravano fuori di tutte no di tutto come quando uno fa uno fa lo youtuber no e tirano fuori che compra gli iscritti che c'è che sono cose allucinanti perché se uno fa lo youtuber di lavoro vuole guadagnare non vuole spendere soldi giusto sono un imbecille può buttare via dei soldi anche perché non è che youtube ti faccia diventare ricco capite no questo ecco per cui quando tu stai sulle balle a qualcuno detto proprio riferimento arrivano arrivano gli avvoltoi i sciacalli chiedo scusa gli animali che sapete che io amo ma devo fare dei paragoni con le specie animali che si nutrono delle carone degli altri la juventus ha avuto negli ultimi anni dopo la partita ai noi dell'avvocato a gianni e del dottor umberto ha avuto due rampolli al comando due rampolli perché perché in fretta e furia è stato fatto in modo che moggi gerardo e bettega che facevano una buona gestione della juventus a livello sportivo se non altro fossero mandati al macello come si suol dire prese in mano da due rampolli due rampolli ricchi viziati e al mio modo di vedere non competenti a livello calcistico la fortuna è stata che quando siamo tornati della serie b sono state fatte delle scelte giuste perché io credo che claudio ranieri definito da tutti il normalizzatore è stata la miglior scelta che la juventus potesse fare per ripartire in serie a tant'è che arrivo terzo e secondo arrivo terzo e secondo cioè voglio dire con una juve distrutta da calciopoli fece un miracolo noi all'epoca non ce ne rendevamo conto ma claudio ranieri bisogna ringraziarlo perché fece veramente un miracolo arrivando secondo e terzo nei due anni che arrestò la juventus poi però agnelli andrea che è un litigioso di natura e ci può anche stare perché se uno vuol far valere i propri diritti deve anche battersi no però secondo me è un eccessi è eccessivamente litigioso e rancoroso perché ha iniziato la sua battaglia personale a nome della juventus contro le istituzioni con i ricorsi su ricorsi su ricorsi non sto qua a specificare dettaglio perché lo sapete meglio di me chiedendo 444 milioni di risarcimento per quello che è accaduto con calciopoli ok benissimo avete visto il titolo 400 milioni di motivi io ho rotondato no per difetto erano 444 neanche fossero fatti apposta allora se voi andate a chiedere 444 milioni a un'istituzione come la figici che non ha il becco di un quattrino perché se fate un ragionamento la figici come faceva a dare 444 milioni alla juventus e soprattutto come poteva capitare che un organo deputato a giudicare avrebbe potuto accontentare la juventus dopo quello che era accaduto dopo tutto il miasma che c'era a livello di di media televisioni contro la juventus insomma fatto sta che la juventus non ha ottenuto il becco di un quattrino anzi ogni volta che veniva fatto un ricorso veniva puntualmente respinto e restituito al mittente la fortuna di agnelli è stata quella di avere un compagno avventura tale giuseppe marotta e un tale antonio conte che all'inizio della sua avventura quella nuova dopo dopo il fallimento di del neri ha riportato la juventus ai vertici del calcio italiano e di lì c'è rimasta per nove anni perché vuoi acquisti giusti vuoi marotta che non sbagliava un colpo ne ha sbagliati tre o quattro ma ne ha azzeccati una ventina vuoi il fatto che massimiliano allegri voleva aveva voglia di rivalsa e veniva dal milan buttato buttato via calci nel sedere e ha fatto cose meravigliose perché è indubitabile che allegra nei primi cinque anni ha fatto cose meravigliose perché io vorrei vedere chi non è stato contento di andare in finale a berlino e chi non è stato contento di andare in finale a cardiff chiedete a un interista o un milanista se non sono eccitati all'idea di poter andare in finale a istanbul chiedeteglielo e non ci sono ancora in finale loro e non si sa se vinceranno eppure vi diranno che sono eccitati perché il cammino della champions league è eccitante quindi va detto sono state fatte scelte fortunate e giuste e la juventus ha creato una squadra che era talmente più forte delle altre che a febbraio marzo gli scudetti erano già vinti più o meno come quest'anno che quest'anno napoli l'aveva già vinto a dicembre lo si capiva già che l'aveva già vinto a dicembre bene non appena la juventus ha commesso due tre errori interni e per interni intendo pagare troppo ronaldo che idolo benedica come giocatore perché io non lo dimenticherò mai però l'hanno pagato troppo marotta se n'è andato proprio perché non andavano bene i conti secondo lui col discorso ronaldo promuovere uno come paratici che di direttore sportivo non ha neanche la sigla di essere neanche quella di direttore sportivo ascoltare nelle delle cavolate che gli proponeva raiola non ultima quella di aver fatto tornare pogba rotto alla juventus quindi puoi promuovere cherubini perché paratici c'è una serie di errori uno dopo l'altro mentre nel frattempo paratici aveva smantellato quella squadra che parata che marotta aveva costruito rendendo la juventus molto più deboli a livello sportivo e di fatto le altre si sono diciamo avvicinate non sono migliorate le altre perché se noi parliamo di napoli di milan di inter e anche se vogliamo di roma di lazio non stiamo parlando di cinque squadroni non stiamo parlando di cinque squadroni stiamo parlando di squadre più o meno forti che però hanno raggiunto la juventus se poi ci mettiamo che allegri torna alla juve con idee vecchie vetuste che non possono essere più attuate alla juve attuale perché non è più la juve più fortissima che aveva prima il gioco è fatto ora agnelli ed elkan è inutile che molti di voi li difendano e gli vogliono bene sono antipatici perché sono ricchi sono viziati sono hanno un modo di fare da snob sono sabaudi si sentono molto più migliori degli altri più intelligenti degli altri e questa cosa è questa cosa a chi ha un po di potere non tanto un po di potere i media le televisioni la figici seferi t'ha fastidio poi la ciliegina sulla torta agnelli si inventa la super lega insieme a la porta e a peresce pensando di fare un golpe calcistico epocale e invece è il più grande boomerang che sia mai stato lanciato nei propri denti da una persona perché questa super lega ritorna al mittente con una serie di problematiche e con una serie di difficoltà gestionali per la juventus mostruose la juventus voi fateci caso adesso come adesso è accerchiata e le plusvalenze e gli stipendi e gli accordi con i procuratori e l'allenatore cioè è accerchiata la juventus è accerchiata questo è un pantano per non dire una delle sabbie mobili in cui a elkan e agnelli perché io non escludo elkan perché agnelli non è che faceva tutto da solo dove elkan e agnelli ci hanno impantanato ci hanno buttato stessa cosa la fanno con la ferrari ma qua non è argomento del contendere la ferrari ma più o meno la penso la stessa maniera fatto sta che questi due personaggi elkan e agnelli ormai sono invisi al mondo del calcio non solo italiano ecco perché io più volte ho detto cambiamo proprietario lo so anch'io che magari arriva uno ci tiene cinque anni e poi dopo ci vende lo so anch'io lo so anch'io con tutti i rischi che ne conseguono ma almeno almeno in quei cinque anni facciamo la cicala perché questa storia della formica che è interessante no la sapete no la favola della cicala della formica noi non vinciamo una mazza in europa da una vita adesso non so cosa faremo in europa lì perché mentre registro questo video mancano ancora dei giorni all'andata contro la civiglia ma onestamente noi una vita che non vinciamo niente in europa capite quindi io credo che l'atteggiamento tenuto dalla famiglia di agnelli elkan sia stato il vero autogol gigantesco che ci ha portato in questa situazione io non sto dicendo che è colpa di elkan e di agnelli però sicuramente se tu vai a stuzzicare uno se tu vai a stuzzicare uno quello se non è proprio un attapirato se non è proprio un sottomesso prima o poi si vendica e quello che sta accadendo adesso var contro fisici contro uefa contro giornali contro è una vendetta perché poi tra l'altro direte come i giornali max si dovete sapere che il discorso rcs dove erano proprietari famiglia agnelli elkan sono venute fuori delle robe che voi non potete neanche immaginarvi sono cose di editoria che io purtroppo conosco perché lavoro nell'editoria da tanti anni ma è veramente una roba allucinante quello che c'è contro la famiglia elkan agnelli in rcs non so se lo sapete rcs è la casa editrice tra le altre di gazzetta dello sport e corriere della sera trovatemi due giornali che sono più incazzati con la juve di questi due quindi o più negativi nei confronti di questi due per cui signori c'è un detto che dice no ognuno si raccoglie quel che si semina ecco io credo che purtroppo agnelli ed elkan in questi anni con il loro modo di fare hanno seminato vento e adesso stanno raccogliendo tempesta una vera e propria tempesta mediatica e non solo contro la juve quindi è inutile che si parli di me di di palazzo corrotto di mafia di tutti questi ragionamenti è inutile problema è che noi li abbiamo istigati li abbiamo istigati e adesso che hanno capito che la juventus non è più imbattibile perché sul campo noi facciamo abbastanza ridere le ultime prestazioni sul campo l'hanno dimostrato ne approfittano questo è quanto quindi come vedete ci sono oltre 400 milioni di motivi usato questo come come modus no per il titolo no i famosi 444 milioni che ha richiesto per ostacolare la juventus signori la juventus non è amata ora spetterà ai proprietari non certo a me e non certo a voi trarre le proprie conclusioni e fare delle scelte non ultima anche quella di ripartire da una lega da una lega inferiore in un altro paese la c la b la d non lo so o chiedere per per meriti sportivi l'ingresso direttamente nella lega superiore perché secondo me fino a che resteremo in italia dove tra parentesi nel frattempo il moto il moto popolare o sentimento popolare è tornato ai massimi storici è come i tempi di calcioppoli tu non puoi fare un video dove dici che c'è stato fatto un torto alla juve che ti arrivano mi lo dico per esperienza sul mio canale dove ti arrivano centinaia di commenti di anti juventini che ti dicono ma state zitti parlate proprio voi e questo da un certo punto di vista di capisco anche perché se noi siamo sempre in mezzo all'occhio del ciclone capisco che gli altri credano che sia tutto vero purtroppo non è così noi siamo in mezzo all'occhio del ciclone perché i nostri proprietari hanno dato hanno fatto cose che non andavano bene hanno dato fastidio a potenti e a istituzioni che hanno il potere scusate gioco di parole di vendicarsi nei nostri confronti questa è una vera e propria vendetta nei confronti della juventus e vi assicuro che quello che stiamo vedendo adesso in questo momento è soltanto l'inizio di una vera e propria inizia con la g e finisce con la non lo voglio dire perché è una parola brutta per cui signori che causa del suo mal diceva sempre mia nonna maria pianga se stesso questi hanno fatto dei casini sicuramente non sono immacolati non hanno fatto tutti i casini che ci vengono abitati però sicuramente il mondo ce l'ha con la juve il mondo del calcio ce l'ha con la juve facciamoci le domande e se siamo intelligenti diamoci delle risposte good morning juventus grazie a tutti grazie a tutti